1. Nicola Lorani 2. Francesco Malagora 8. Paolo Nicolazio 9. Angelo Zanetta 11. Riccardo Pitella 12. Paolo Metolani numero 13. Andrea Sardini numero 14. D'Angelo Sforzi numero 15. Simone Arteoni numero 17. Gabriele Eonesi numero 18. Luigi Piccolo numero 29. Capitano Marco Bertrani e numero 32. Zora Sforzi e Re scendono in partita i signori Shabir Desideris e Emilio Gopignoli Pallanato ref gamma in polone 2. Tom beating 2. Tom making 2. Tom shooting Grazie. 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 Divino il ricordo, i signori Bocchieri e Scamore e ai cronometri i signori Cannone e Costa. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti